Lo scorso venerdì 2 luglio ho partecipato al concorso STEM per la classe A041. Sono stato inviato in un paesino dell'entroterra siciliano, difficilmente raggiungibile, ma soprattutto è stata davvero vergognosa la sede. Una scuola con oltre 42 gradi e nessun condizionatore. La prova è stata quindi un calvario ed il rischio di svenire era sempre dietro l'angolo, considerando anche la mascherina FFP2. Verso metà prova anche respirare è diventato difficoltoso e per non svenire ho dovuto riversare sulla mia testa l'intera bottiglietta d'acqua che avevo a disposizione. Per poche domande non sono passato, ho superato la soglia dei 60 punti su 100, che ovunque rappresenta la sufficienza, ma per tre domande non ho raggiunto i 70 punti. Sono sicuro che se avessi sostenuto come tanti altri la prova in sedi normali come Messina, Catania, Cireale e così via, che garantissero le condizioni normali per eseguire tale prova, sarei riuscito ad ottenere la soglia dei 70 punti. Sto evidenziando un fatto oggettivo di impedimento alla normale esecuzione della prova. Potrebbe essere abbassato a 60 il punteggio soglia? Grazie. 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 Grazie.